Acque agitate nella coalizione giallorossa in Campania, mentre il PD ha le prese con il commissariamento in arrivo da Roma dopo le dimissioni di massa dall'Assemblea regionale, il Movimento 5 Stelle prova ad invertire la deludente tendenza delle elezioni amministrative. Il leader pentastellato Giuseppe Conte è protagonista di un'intera domenica dedicata ai comuni campani chiamati al voto Capua, Portici, Acerra, Pozzuoli e Nola, le tappe che hanno visto la partecipazione dell'ex presidente del Consiglio. Conte ha ribadito il no all'alleanza con Vincenzo De Luca. Non vedo all'orizzonte nessuna alleanza in Campania, ha detto l'ex premier. Siamo all'opposizione, ma un'opposizione responsabile e costruttiva. A noi sta a cuore l'interesse dei cittadini, ma in prospettiva non vedo affatto un'alleanza, l'ennesima chiusura ad un'eventuale intesa col PD a trazione deluchiana. Sul palco di Capua, accompagnato da parlamentari e candidati, Conte ha ribadito il sostegno ai candidati 5 Stelle casertani. Criticità problematiche che hanno fatto di Capua una bellissima realtà da rilanciare. purtroppo ancora in forma depressa. Dobbiamo aiutarla, proponiamo un progetto nuovo, progressista, in cui è importante dare forza al Movimento 5 Stelle, è importante dare forza al nuovo corso del presidente Giuseppe Conte. Non solo Conte, in Campania anche il ministro degli esteri Luigi De Maio, che ha assicurato l'impegno per fare di Napoli la capitale europea dello sport 2026. Grazie. Grazie.